Ciao a tutti, bentornati su Tyranny, siamo a questa Spire che abbiamo trasformato in un'enorme libreria e volevo parlare un pochettino con i miei personaggi prima di riprendere la storia perché di solito ci sono delle missioni secondarie, iniziamo con i compagni un po' più vicini nel senso tipo Verse, questa gente che abbiamo dei rapporti migliori tra l'altro Verse con sta maschera è inquietante ti sei fatto un sacco di problemi, non ti sei fatto molti problemi a rompere gli editti del Signore Supremo a destra-sinistra quanto tu non stia pagando per i tuoi servizi, credo che dovresti chiedere un aumento come ti senti? Non solo hai dato voce al volere del Signore Supremo ma stai rompendo la magia di Kiros a destra-sinistra sto solo servendo gli interessi della missione mettere in ordine le tue priorità è un buon modo per star vivo ma mi chiedo se non dovresti essere più, lasciarti andare di più non vai e resti da nessuna parte pensando solo alla salute se hai bisogno di me, ma non hai... per quanto chiedi a me, io non ho nessuna saggezza magica farò qualunque cosa possa fare per portare il nostro piccolo gruppo attraverso questa guerra e anche se vedo che la tua forza ci guida mi tirerò fuori dalla miseria e prenderò il controllo non eravamo riusciti a farci raccontare niente, magari adesso dimmi qualcosa di te stessa, se insisti io sono una furia scarlatta, dovrei sollevare qualche bandiera per te vuol dire che io sono buono ad uccidere, bravo ad uccidere è più importante che mi diverto nel farlo cosa farei con gioia? cosa non farei con gioia? sono il piacere di riti funerari circondati da gente che piange un giorno, nel senso lui non vuole morire in un letto tranquilla un giorno io cadrò in battaglia e quindi mi butteranno in una fossa di massa o mi butteranno in cima a un vagone di merda uno anonimo, un pezzo di carne anonimo insomma non vuole morire nel suo letto fino a quello voglio prendere qualunque cosa io possa dalla vita avere divertimento lungo la strada come sei stata coscritta? beh io penso che Avestu abbia un'errore, un'idea sbagliata di me il coro non mi ha preso come una fanciulla piangente sono entrato nel loro campo e mi sono messo in lista ho scelto io di partecipare, di far parte del coro qualcuno mi ha dato una spada dentata sono sopravvissuto attraverso l'iniziazione perché i primi membri del coro, come ho letto all'inizio devono combattere inizialmente in prima fila chi sopravvive riesce ad andare avanti ho passato una settimana massacrando i miei vicini e quindi sono andato avanti con i miei nuovi compagni non ho perso tempo con i saluti mia madre era morta da molto tempo il resto della mia famiglia era occupata la ragazza che ero c'era molto di più forse anche lei sapeva che c'era molto di più di tutto quello combinato cos'è il significato? ma lo sappiamo già, ce l'ha già detto abbastanza domande sul tuo passato ti vorrei chiedere nei nostri viaggi cosa pensi del nostro, cosa è successo adesso? non so per quale follia tu pensi che gli esecrati siano l'armata da supportare ma naturalmente sei libero di fare quello che vuoi bah, insomma, mi aspettavo forse qualche cosina di più oh, c'era qualcosa qua sotto dovrei prendere il coraggio di viaggiare tra le... tra le spire ma magari facciamo così lo farò magari esternamente ne parleremo esternamente di questa cosa adesso vorrei solo fare avanti e indietro per poterli salire in cima e trovare magari i lavoratori e provare ad addestrarmi dicevo, proveremo magari a farlo esternamente a parlare con loro e se dovessi ottenere qualcosa di particolare bene, parlerò ah, perché altrimenti probabilmente adesso farei un intero capitolo solamente di chiacchiere che per carità alle volte non mi dispiace, eh perché dopo tutto stiamo parlando comunque di un GDR ed è giusto sfruttare quello che può dare per parlare per quello che può dare in storia e quant'altro però anche non vorrevo fare veramente mezz'ora passato a leggere dei dialoghi soprattutto perché sembrano abbastanza semplici oh, eccoli qua allora, intanto raccattiamo il nostro gruppo ok distanzialmente diceva che l'edito delle tempeste ha portato morta alla penisola baric baric vers e l'antri perfetto dobbiamo parlare non a litios ma a fila era lì vicino perché voglio addestrare il nostro fatebinder nel in lore fila un mago mmm fatebinder mi chiedevo quando avrei incontrato mio signore fila dei forgebound prima che mi chiedi perché un uno smith un come si chiama un forgiatore un fabbro faccia lontano da una forge bene sto prendendo una pausa dal mio lavoro sul ferro e questa libreria questa biblioteca mi da mi rende più mi interessa di più quali sono i tuoi piani ho bisogno di un po' di tempo per staccarmi dagli impegni di guerra assembrare le stesse spade del metti usando il nostro intelletto e l'arte per equipaggiare un'armata beh i forgebound sono maestri nel farlo siamo artisti e di questa guerra sta misurando il nostro talento insomma nel creare armi voglio passare un po' di tempo tra questi libri cercando quello che mi interessa nel potere arcano prima di tutto insegnando anche tu dovresti cercare un simile un simile compito anche se prendo che tu lo sappia benissimo come possiamo iniziare? parliamo di magia ok facciamogli aumentare il livello di lore di aikudo anche perché costa veramente poco ah no costa poco un cazzo in realtà costa tantissimo imparò qualcosa imparò qualcosa tutti i giorni siamo anche stabiliti di livello 75 di lore eh dobbiamo aumentargli la magia la protezione dalla magia se questo poi ci fa anche salire un pochettino la lore io non ci scuto sopra però più che altro dobbiamo aumentare la protezione dalla magia eccolo qua leadership quando la tua salute diventa critica pianta il tuo scudo sul campo di battaglia permette di anche un po' la defesa anche un po' la difesa dovrei aumentare caspita questo è bello eh però però dovrò spenderne ancora due esorta un compagno a fomentare i danni questo bonus è basato sulla loro paura ispira un compagno dandogli bonus a forza è basato sulla loro realtà direi che prendiamo questo bonus a forza saggezza e vitalità mi piace perfetto lo faremo la prossima volta lui non ha punti da spendere lui in realtà ha un punto ma lo useremo poi dopo per far salire ancora di livello quella ok direi che possiamo anche andare torniamo alle vecchie mura all'inizio perché dobbiamo uscirne per andare a parlare con gli earth shakers abbiamo spazzato via red fang non sono andato a vedere se dovessi parlare con altri uomini bestia nel mentre vediamo un attimino forse basterà questo in realtà basilon se non vogliono ascoltare ragioni oh porco cane ah perché abbiamo ammazzato red fang quindi ci tocca ammazzarli tutti quindi pensate di massacrarlo come poi quindi tutti dobbiamo massacrarli adesso che palle però è un lavoro bello lungo questi ci rimassacrano tra l'altro non possiamo farlo durante il combattimento porco cane facciamo il giro allora bene combattiamo ammazzare lui tu passa all'arco perché qua siamo troppo nello stretto perfetto su massacrate anche lui su il problema è che qua stanno probabilmente facendosi massacrare invece gli earth shakers dice uno c'è uno che li trovo morti ok ce l'ho fatta invece no stanno facendo stanno facendo un botto di danni è diventato un massacro praticamente stiamo passati attraverso le tribù degli uomini bestia come delle delle belle delle belle scaterate qui non c'era niente vero no ma dobbiamo tornare verso il ponte ah lì ce ne sono ancora due sul ponte accattiamo solo questo perfetto e andiamo giù mettendo davanti lui poi lui e adesso andiamo i tuoi giorni finiscono qui che ci ha tirato giù però bravo tu passa magari alle armi a due mani va se pesta però è più forte verso degli altri ha pensato più forte verso degli altri due beh abbiamo fatto tutto direi là sotto siamo già scesi non è che mi sia piaciuto speravo che uccidendo Redfang forse gli altri sarebbero stati più tranquilli ma direi che difficilmente poteva essere così in effetti bene Fatebinder l'hai fatto hai reso sicuramente più facile ottenere i cristalli hai fatto un grande favore alla gilda sigillo di forza oh se torni su alien rock prendi questo questo scatola di pura azurelite vuoi? si ci servirà per il rituale vediamo solo un attimo cosa ci ha dato di di che sigillo della forza secondo me ce l'avevamo già vero? vedi conoscevamo già questo sigillo si lo venderemo non succede niente di grave mi sono dimenticato l'antri porco cane sbrigati lui non lo stavo usando per combattere l'arretrato e quando l'avevo fatto non l'ho preso mappa non halfgate ma alla downing spire perfetto avessimo già attivato la spire ci trasportavamo all'istante però pazienza non succede nulla se perdiamo due giorni anzi così facciamo passare un po' di tempo per le ricerche probabilmente la libreria se veramente le ricerche ci pettono del tempo era la prima cosa da ricercare però pazienza va bene anche così alcune abilità permettono ai membri del party di attaccare molte volte con attacchi basici e ci sono forse quelle diverse finora che abbiamo visto che riesce ad attaccare abbastanza velocemente devo dire che una delle cose più furbe del sistema di combattimento è che rispetto a tanti titoli del passato l'intelligenza artificiale è abbastanza in grado di occuparsi da sola di combattere veramente cioè non utilizza solo attacchi base solo attacchi base solo attacchi base ma combatte anche e soprattutto anzi utilizzando in maniera buona le abilità speciali e questo direi che è una cosa ottima sono tutti di livello 13 tranne verse che è un pochettino più indietro chissà se adesso non ci darà un po' di esperienza per questa cosa ah era qua per parlare tra l'altro con verse con l'antris non sono proprio cieco cioè in realtà l'avevo già visto ma è passato del tempo e non me lo sono ricordato radix le ciò che era necessario è stato preparato sei pronto a fare il rituale che strarrà l'energia di kairn unisciti unirsi a noi non è un componente critico ma credo che concentrerà aiuterà concentrare aiutare a aumentare la nostra concentrazione vorrei anche che fossi tu ad avere l'onore di eseguire il rito finale dopo aver estratto questa energia la sua energia avremo poco tempo per usarla per distruggere permanentemente questa questa terra iniziamo eccellenti in ogni caso segnalerò che il rituale di following di caduta quelle ma si di caduta inizierà devo solo fare un passo indietro da questo bordo adesso trema tutto batte una due tre volte sul suolo lasciamo che questa terra senta le nostre urla continua a mentre gli earth shakers intorno a lui lentamente si avvicinano lasciamo che questa terra tremi lasciamo che questa terra assorba ciò che rimane di kairne e strappi il suo potere per sempre arconte della pietra ti diamo ciò che ciò che meriti ciò che noi crediamo che tu meriti lasciaci maledire questa terra preparando aprire questa terra far cadere questa terra preparandola per renderla la tua tomba di la tua tomba che bello però questo gigante doveva essere impressionante in vita signore il coro scalato sono su di noi hanno rotto il perimetro hanno sfondato il perimetro o per la gloria di graven graven nascenti un attimo di buco unite la gilda e difendete il compound la struttura non permettete al coro scalato di interrompere la rituale a qualunque costo capito? si gira verso suo fratello caedis io e i miei scudi è molto importante è molto importante hai capito non lasciare che spazzino via i nodi le punte di azzurra elite se dovessero interrompere uno dei nostri punti focali imperativo che tu lo ripristini immediatamente altrimenti l'intero rituale diventerà instabile ok stanno arrivando dall'altra parte sono i vari muri di difesa ah sono già qua qua ci sono già due morti tra l'altro oh vaffan... ok quanti ce ne sono ma neanche tantissimi in realtà sono più massa critica che altro si capisce niente sono un po' troppi forse per i miei gusti l'unica cosa verso paura che abbia ancora l'arco no le armi a due mani perfetto allora verso e fai un bel giochino adesso uh 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 si sta tirando tutti lei no buono no buono allora prendiamo lui e lo mandiamo a pestare in world shunter e lei si sgancia e si unisce all'oro a lui nel pestarli perfetto qui in mezzo c'è lui che fa un po' quello che vuole tu pestala le scarlate in modo da liberare loro vaffanbrodo beh siamo riusciti a fare quello che volevamo direi verso ferita ma forse assolutamente non gravemente direi che il primo assalto l'abbiamo respinto bene e solo e solo più lui fate binder non puoi permettere che il cuore interrompa il rituale ci siamo abbiamo già strappato troppa energia da caern se la risonanza geotriadica dell'azzurrelite dovesse interrompersi il risultato potrebbe uccidere caern e con lui la nostra abilità di danneggiare questo reame velocemente dobbiamo riconcentrare nella la staff la questa specie di credo sia questa qua questa specie di di bastone nel nodo dell'azzurrelite per riallineare la griglia di insomma una supercazzola non da poco ok questa l'abbiamo riallineata ah quindi partiva già non allineata dobbiamo andarle materialmente a riallineare noi quindi faremo una serie di combattimenti per riottenere la pos- la libera il libero accesso a quelle robe lì uh carini light armor anche lui in realtà ne avrebbe bisogno ogni tanto deflection 8 ok direi che questo mi piace e in più questo no teniamo quello che abbiamo e a lei non interessano vero braceri del lord armatura 3 a me è heavy armor questa allora no e anche questi qua sono heavy armor no light armor vabbè prendiamo tutto andiamogli solo all'antri questo brutto sembra sembra un turista tedesco con i sandaletti ci mancano solo i calzini bianchi facciamo solo un salvataggio va ci dovrebbe essere solo più uno credo il capitolo di oggi verrà un briciolino più lungo ma pazienza altrimenti guardate interrompo qua perché altrimenti ho paura che diventi troppo lungo poi mi tocchi tagliarlo dopo e ci rivediamo fra due giorni sconfiggeremo spero l'ultimo gruppo dell'orda e poi riattiveremo il rituale di cairn e penso torneremo a meno che non succeda cosa di terribile proveremo ad attivare l'ultima torre e poi torneremo da grave e nasce e penso che poi sarà la volta di lezian crossing ci vediamo la prossima volta ciao ciao se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale per vedere anche gli altri e spero vi piacciono anche i prossimi ciao 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 ciao